A Città di Castello si è tenuta una serata culturale per tutti i gusti. All'Accademia degli Illuminati il Circolo del Libro, in una sala gremita per le letture tifernati da autori locali, ha proposto Valeria Piovanna. Ricorda, con amore, luoghi interiori, editore. Letture di Lorenza Baldassarri, dialogo con l'autrice Tuglia Campanelli. Poi la rievocazione storica in occasione della festa della mattonata che ha sfilato nel centro storico della città. Ed infine la notte dello sport che ha aperto estate in città, con la partecipazione di oltre 20 associazioni sportive dove tantissimi bambini e ragazzi hanno potuto provare le tante attività. Una bella serata, veramente una bella iniziativa. La Tizern è presente con tutti i suoi ragazzi, gli istruttori e anche tutte le altre società hanno ricevuto che questa è una serata dello sport dove tutti possono provare i sport esistenti in Città di Castello e vedo un grosso ritorno per tutti e complimenti agli organizzatori. E vengo ad aiutare i bambini a appassionarsi a questo sport, con la mono. Questa sera abbiamo visto che si sono avvicinate tante bambine, bambine indifferente, ma dalle fasce d'età. Dai tre anni alle bambine più grandi che c'erano prima che passavano saranno state una cinquantina di bambini da quando abbiamo iniziato. Vi aspettiamo.